Salve e bentornati a Pinocchio. Oggi vi racconto il capitolo 3. Il titolo del capitolo 3 è Geppeto, Geppeto fabbrica il burattino. Il burattino è Pinocchio, fabbrica, fabbrica è Fa, 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 Fabbrica, Fa, Geppeto fabbrica il burattino. Fa, Geppeto ritorna a casa. Geppeto entra in casa e la casa di Geppeto è semplice. Una casa semplice, modesta. Geppeto è un falegname. E' semplice, modesta. Lui è un falegname. E Geppeto ha un tavolo nella casa. Un tavolo semplice. Una sedia, una, una sedia e un letto, un letto per dormire e un camino. Un cammino, questo è un cammino con il fuoco, con il fuoco e sopra il fuoco, sopra il fuoco una pentola. E Geppeto ritorna a casa con, con il pezzo di legno. Il pezzo di legno e Geppeto subito, subito e immediatamente, immediatamente comincia a fabbricare il burattino. Subito, subito è immediatamente, immediatamente, subito si mette, si mette a costruire, a fabbricare il burattino, si mette a costruire, si mette a costruire, si mette a costruire, si mette a costruire, si mette a costruire. A fabbricare, si mette a costruire, si mette a costruire, si mette a costruire. Lo chiamerò, lo chiamerò Pinocchio. Si mette a costruire, 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 si mette a cost Pinocchio e Geppetto prende il pezzo di legno, prende il pezzo di legno e per primo, per prima cosa numero uno, Geppetto fa, fa, la testa, la testa. Di Pinocchio, poi, poi, poi è dopo, poi Geppetto fa, i capelli, i capelli di Pinocchio, Geppetto fa, i capelli, i capelli. Geppetto fa, la testa, poi, fa, i capelli, i capelli. E poi Geppetto fa gli occhi. Gli occhi. Fa gli occhi. Geppetto fa gli occhi di Pinocchio. E appena, 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 appena. Geppetto fa gli occhi, gli occhi, gli occhi si muovono, si muovono. Gli occhi, si muovono. Girano. 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 si muovono, si muovono e guardano, fisso, geppeto, guardano, fisso, fisso, fisso è, fisso, guardano, fisso, geppeto, e geppeto, geppeto dice, perché, perché mi guardi fisso, perché mi guardi fisso, e geppeto fa il naso, fa il naso di Pinocchio, ma appena geppeto fa il naso, il naso, il naso cresce, cresce, il naso di Pinocchio, cresce, lungo, 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 e geppeto clip taglia, taglia il naso, geppeto clip, taglia il naso lungo, di Pinocchio, ma, 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 il naso, il naso cresce, il naso cresce, geppeto taglia, e il naso cresce, geppeto taglia, e il naso cresce, geppeto, poi, poi, fa la bocca, la bocca di Pinocchio, fa la bocca, ma, appena, geppeto, fa la bocca, Pinocchio, ride, 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 ha, 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 Pinocchio ride, ride di geppeto, ha, 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 si arrabbia. Egeppetto dice perché ridi? Perché ridi? Perché ridi? Basta! Smetti! Smetti! Basta! Smetti! Perché ridi? Ma Pinocchio non smette. Pinocchio non smette. Ride, ride, ride e... Fa la linguaccia. Fa la linguaccia a Geppetto. Fa la linguaccia. Fa la linguaccia è... Fa la linguaccia a Geppetto. Questa è la lingua. Lingua. La lingua di Pinocchio. E Pinocchio fa la linguaccia a Geppetto. Geppetto non è contento. Non è contento. Ma... Ma Geppetto continua. Geppetto continua. Continua a fabbricare il burattino Pinocchio. E Geppetto... Fa... Fa il collo. Questo è il collo. Geppetto fa il collo. E poi... Fa... Le spalle. Eh? Le spalle. Eh? Le spalle. Eh? Fa le spalle. Una spalla. Due spalle. E poi fa... Fa... Il torso. Fa il torso. Fa il torso. Fa il torso di Pinocchio. E fa... Anche lo stomaco. Geppetto fa le spalle. Il torso. E lo stomaco. Poi fa... Poi fa... Le braccia. Le braccia. Fa le braccia. E poi fa... Le mani. Le mani di Pinocchio. Ma... Appena... 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 Geppetto... Fa... Le mani... Pinocchio... Mmh... Prende... Ruba... Prende... Ruba... 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 La parrucca, parrucca, la parrucca di Geppetto, la parrucca già la prende, la parrucca. Geppetto non è contento, Geppetto è arrabbiato e Geppetto dice smetti, basta, basta, smetti, dammi, 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 dammi. Dammi la parrucca, la mia parrucca e Geppetto prende la parrucca e la mette in testa. E poi, e poi, Geppetto fa le gambe. Geppetto fa le gambe del burattino e Geppetto fa i piedi. Fa le gambe, gamba, gamba, piede, piede. Geppetto fa le gambe e i piedi. Ma appena, appena Geppetto fa i piedi di Pinocchio, Pinocchio scappa. Pinocchio scappa, scappa, scappa. Pinocchio corre. Pinocchio corre e corre per la strada. Pinocchio, scappa, scappa, scappa e corre via. Corre via. Corre via. Questo è Pinocchio. Pinocchio, naso. Pinocchio corre, scappa. Pinocchio corre, scappa. scappa, scappa, corre via, per la strada. Questa è la strada. Scappa via, scappa per la strada. E Geppetto, Geppetto, anche Geppetto. Anche Geppetto corre dietro a Pinocchio. Geppetto. Gli occhiali, occhiali di Geppetto. I baffi di Geppetto. Geppetto, la bocca e la parrucca gialla. Geppetto, Geppetto corre dietro a Pinocchio. Dietro a Pinocchio. Corre, 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 corre dietro a Pinocchio. Per la strada. Per la strada ci sono le persone. 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 Molte persone. Ah, ci sono le persone. Le persone guardano, guardano. Pinocchio scappa e Geppetto corre dietro a Pinocchio. Capelli di Pinocchio. Ma, ah, improvvisamente, 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 improvvisamente arriva, arriva un carabiniere. Un carabiniere. Un carabiniere. Un carabiniere. Carabiniere. Questo è il cappello. Un carabiniere. 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 Carabiniere è un poliziotto italiano. Il carabiniere ferma, 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 ferma Pinocchio e il carabiniere prende Pinocchio per il naso. Lo prende, lo prende per il naso. Lo prende, lo prende per il naso. Lo prende per il naso e il carabiniere lo restituisce. Lo restituisce a Geppetto. Lo restituisce. Restituisce. Il carabiniere lo restituisce. Lo, lo è Pinocchio. Lo restituisce a Geppetto. Geppetto, Geppetto non è contento. Geppetto vuole, vuole, Geppetto vuole, prendere, prendere Pinocchio, prendere Pinocchio, prendere Pinocchio per le orecchie, prendere per le orecchie, Per. Ah? Geppetto vuole, prendere Pinocchio per le orecchie. Ma, Pinocchio non ha orecchie. Pinocchio non ha orecchie. Pinocchio non ha orecchie. Niente. Così. Geppetto lo prende, lo prende per il collo. Per. 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 Il collo. Il collo. Lo prende per il collo. Ha! Ma. Ma. Pinocchio. Ha! Pinocchio. Ha! Pinocchio. Pinocchio. Pum! Si butta a terra. Pinocchio si butta a terra. Si butta a terra. Si butta. Si butta. Si butta a terra. Questo è a terra. Si butta a terra. Si butta a terra. Pinocchio si butta a terra e piange, 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 piange. Pinocchio piange, piange, piange. e Pinocchio Grida. Grida. Aiuto, aiuto, aiuto. Piange, piange e Grida. Grida. Aiuto, aiuto, aiuto. E Pinocchio dice, Geppetto mi picchia, mi picchia, picchiare, pum 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 pum, Geppetto mi picchia, mi picchia. Le persone, le persone pensano, poverino, povero Pinocchio, poverino, poverino, il burattino, Geppetto lo picchia, lo picchia. E il carabiniere ritorna, arriva il carabiniere e non prende Pinocchio, non prende Pinocchio. Il carabiniere prende Geppetto. Prende Geppetto, Geppetto, Geppetto e mette Geppetto. Mette Geppetto in prigione. Il carabiniere lo porta, lo porta, lo porta, 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 lo, lo, lo. Il carabiniere lo porta in prigione. Fine del capitolo 3. Grazie e ciao.